Una bellissima giornata di sport e solidarietà sabato scorso al Palasport Pippo Nicosia con l'incasso devoluto alla Croce Rossa per acquistare una nuova ambulanza. Una gara bellissima ed un risultato eccezionale per le ragazze della SEAP in una gara dominata fin dalle prime battute. La SEAP Paragona ha giocato la partita migliore del campionato contro l'avversario più tenuto in assoluto vincendo 3-1. Questi parziali 25-18, 25-21, 27-29, 25-19. Nel big match contro la capolissa Santa Teresa di Riva in un Palanicosia stracolmo di tifosi la squadra di Paolo Collavini ha battuto con energia, coraggio e tanta concentrazione la squadra avversaria. Sestetto base formato da Baruffi in regia, Biccheri opposto, Masedo e Composto centrali, Dona Simento e Cammisa schiacciatrici, Marancon-Limbero. Nel corso del match è entrata la schiacciatrice Carolina Falcucci. Parte fortissimo la squadra di casa sostenuta dal pubblico delle grandi occasioni e ritornato finalmente al palazzetto. La Seaparagona martella la capolissa ad ogni zona del campo. La squadra aragonese rimane sempre concentrata e vola a vincere il primo, il secondo ed il quarto set. La Seaparagona riprende a murare d'attacca con altissime percentuali e con grande pazienza ed una rimonta che supera il muro avversario. Santa Teresa fatica tantissima a contenere le martellate delle padrone di casa. Il terzo set lo decidono nel finale gli arbitri, che litigano su un paio di punti da segnare facendo vincere la Santa Teresa. Il quarto set è letteralmente dominato dalla Seap e dalle ragazze, composto in privis, brave a rimanere concentrate soprattutto nei momenti decisivi del match. La Seaparagona attacca con grande potenza e precisione da ogni zona del campo. La Seaparagona conquista la vittoria più bella della stagione, commentata ad una conferenza stampa in cui il coach Collavini, il presidente Di Giacomo e lo sponsor ufficiale Sergio Vella cantano vittorie ed iniziano a sognare la Serie A. Va ricordato che l'intero incasso è stato devoluto in beneficenza alla Corce Rossa italiana, sezione di agrigento, per contribuire all'acquisto di un'ambulanza.